Benvenuti nel mondo Abring. Abring è un marchio di orologi austriaco fondato nel 2004 da Maria e Richard Abring, una coppia di orologiai che hanno iniziato la loro carriera presso la famosa azienda di orologi svizzera IWC, dove hanno lavorato per diversi anni prima di creare il proprio marchio. Sin dai primi anni, Abring si è distinta per la produzione di orologi di alta qualità, caratterizzati da una grande attenzione ai dettagli e all'innovazione tecnica. Una delle caratteristiche distintive del marchio è l'uso di movimenti meccanici di alta qualità, spesso realizzati in esclusiva per Abring da fornitori specializzati. Ciò consente al marchio di garantire una grande precisione e affidabilità dei suoi orologi, oltre a una lunga durata nel tempo. Abring è conosciuto anche per la produzione di orologi complicati, come il Jumping Second Pilot, un orologio dotato di un movimento di salto al secondo, che garantisce una precisione di un sesto di secondo. Abring ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua produzione di orologi di alta qualità, tra cui il premio Best Sports Watch Prize al Grand Prix d'Orlogerie de Genève nel 2012 per il suo orologio W2.0. Questo orologio sportivo, caratterizzato da un design elegante e minimalista, è dotato di un movimento meccanico di alta qualità e di una funzione cronografica rattrappante che consente di misurare i tempi intermedi con grande precisione. Inoltre, il marchio ha anche prodotto orologi con calendario perpetuo e cronografi di alta qualità, perfetti per chi cerca un orologio sofisticato e funzionale. Uno degli aspetti più interessanti del marchio Abring è la sua filosofia di produzione, fatto a mano. Ogni orologio è assemblato a mano dai maestri orologiai di Abring, utilizzando solo i migliori materiali disponibili. Ciò garantisce un'attenzione particolare ai dettagli e una grande cura nella produzione di ogni singolo orologio. In sintesi, Abring è un marchio di orologi austriaco di alta qualità, con una grande attenzione ai dettagli e all'innovazione tecnica. Il marchio è noto per la produzione di orologi non solo complicati, ma anche dal design elegante e minimalista, con una precisione e qualità eccellente. Se stai cercando un orologio di alta qualità e dal design unico, Abring è sicuramente un marchio da considerare. Grazie a tutti.